Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole. La presa del potere dei colonnelli in Grecia, il Vietnam, il suicidio dell'anarchico Pinelli dalla questura e tante altre questioni, ma fra queste la storia di Lulli, il cantautore Pino Masi e il Gismondi. Perché hai sentito l'esigenza di raccontare questa storia di quegli anni? Non è che ho sentito l'esigenza, è che la storia ha trovato me, perché a un certo punto un mio amico Marco Guelfi, che fa il montatore a Roma, mi dice ti mando un soggetto. Io leggo questo racconto di 20 pagine, che era una sorta di memoria, scritto elegantemente, con certa ironia. Vado a Marco Guelfi e dico complimenti, bravo, bella penna. Lui mi dice ma non l'ho scritta io, l'ha scritta il vero Renzo Lulli, che ai tempi aveva 19 anni, ora ne ha 60 e ha trovato la distanza e probabilmente la giusta dose di autorenia per raccontare questa meravigliosa cavolata che gli era capitata nel 1970. Sembra quasi una leggenda metropolitana, da come circolava appunto per le strade, le piccole vie di Pisa eppure nel dicembre del 70 un tentativo di colpo di stato c'è stato. Nel 2011 si parla di un colpo di stato della BCE ad opera di Mario Monti. Era così paranoico questo Masi? Allora, durante tutto il film tu hai la percezione che i tre abbiano in qualche modo, ci abbiano visto giusto e quindi dici vabbè ma ci avevano ragione e poi un attimo dopo dici no dai sono tre imbecilli e poi l'attimo dopo ancora no no ma ci avevano veramente ragione e fino alla fine hai questa ambiguità e perfino alla fine nonostante Masi continuino le sue prediche che sono da un lato una sorta di complottismo paranoico ma da un'altra preveggenza arrivi alla fine a scoprire che comunque appunto il sei mesi dopo questo strano episodio Valerio Cuneo Borghese, ex capo della Decima Masi, proverà a fare il colpo di stato e quindi capisci che la loro intuizione era giusta in qualche modo. Perché la cosa bella è che mentre andavo in giro a raccontare di questa storia ad altri che avevano vissuto quel periodo c'era sempre uno che aveva un aneddoto su un possibile colpo di stato tipo mi dicevano guarda che io sono stato in quel paesino una volta nella sezione del pc con un fucile perché mi avevano detto che sarebbe scappato il golpe e quindi noi dovevamo difendere o se no un altro che mi diceva a Torino io conoscevo uno che dormiva sul tetto della casa d'inverno perché si preparava per andare sui monti quando sarebbe scoppiato il colpo di stato e quindi sarebbe instaurata la nuova dittatura e quindi sarebbero dovuti tornare come i partigiani sui monti. Ultimo, a un certo punto leggiamo un articolo mentre stavamo preparando il film un'intervista a De Michelis e Sacconi dove dicono noi a un certo punto abbiamo preso la macchina e stavamo andando verso la Jugoslavia perché eravamo convinti che ci sarebbe stato il colpo di stato. Non era il primo giugno e quindi sono tornati indietro se no forse avrebbero sfondato il confine anche loro. Il soggetto ti è stato proposto dal Lulli, da come abbiamo capito. Gli altri due invece come l'hanno presa quando hanno saputo appunto che era in preparazione un film sulla loro storia? Allora, il Gismondi mi ha detto guarda lascia perde nel senso lo puoi fare il film ma cambiami il nome e non mi fa mai vedere in faccia perché già mi hanno preso in giro per 40 anni e figurati se dobbiamo iniziare col film. Pino Masi era più categorico, cioè no ma io stavo andando in Austria perché avevo il numero di due ragazze e stavo andando a trovarle quindi una sorta di negazione del fatto. C'è una scena del film quando sono appunto nel parcheggio dell'autogrill in cui si deve decidere chi si siede sul posto davanti. Alla fine sul posto davanti si siederà Pino Masi che comunque è un po' diciamo il capo dei tre che sono in viaggio. C'è una piccola critica anche ai movimenti in questa piccola scena tragicomica? C'è una cosa molto interessante perché il fatto mi sa che è vero pure questo aneddoto qua. Un momento prima però noi gli facciamo fare una cosa che mi aveva raccontato lo stesso Pino Masi che faceva sempre Adriano Sofri al tempo, cioè che si dividono i soldi equamente nonostante uno ne abbia di più degli altri. Quindi è strano vedere come il valore in quel momento dentro i movimenti fondamentale era i soldi siamo disposti a cederli ma non la gerarchia che se ci pensi è un po' il contrario di quello che succede nella società di oggi, cioè la gerarchia, l'onore, l'orgoglio, tutto l'importante è pigliare più sordi possibile e questo fa riflettere una sorta forse di autocritica al movimento ma è anche una critica forse al modello imperante di adesso. Grazie a tutti.